La mafia torna ad uccidere in Sicilia, mentre il carcere duro e le intercettazioni sono strumenti imprescindibili per la lotta alla criminalità organizzata. Questi alcuni dei contenuti fotografati dalla relazione 2011 sul crimine organizzato che la Procura Nazionale Antimafia, diretta da Pietro Grasso, ha consegnato alla Commissione Antimafia, preseduta da Giuseppe Pisano, che l'ha resa pubblica. Il dato più inquietante sarebbe il ritorno dell'uso dell'omicidio come strumento per la risoluzione dei problemi dell'organizzazione, abbandonato per tutto il 2010. Cinque morti nel distretto di Palermo, cosa nostra è ancora la ricerca di una nuova leadership e di nuove strategie. Il latitante numero uno è sempre Matteo Messina Denaro, il cui arresto è priorità assoluta e infliggerebbe un duro colpo. Secondo la relazione, il carcere duro è imprescindibile nella lotta alla mafia. Il 41 bis, si legge ancora, deve essere potenziato. E la relazione bacchetta anche la Procura di Palermo per come ha gestito il caso Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso Vito Ciancimino, le cui dichiarazioni, secondo la DNA, sono spesso prive di logica e coerenza. Una gestione che ha comportato complesse ed articolate indagini al riscontro di un enorme inutile dispendio di risorse umane e materiali. Indagini culminate in provvedimenti cautelari a carico dello stesso Ciancimino e comunque hanno dimostrato che lo stesso ha reso dichiarazioni molto spesso insuscettibili di riscontro, ovvero riscontrate negativamente. Valutazione contestata dal procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, immagino sottolinea che la Direzione Nazionale Antimafia non voglia mettere in dubbio la doverosità degli accertamenti. Grazie alle indispensabili e utili indagini svolte, prosegue, la Procura di Palermo e quella di Caltanissetta hanno potuto acquisire elementi che hanno riscontrato parte delle dichiarazioni di Ciancimino e hanno consentito anche di smascherare altre rivelazioni aventi contenuto calunniatorio. Proprio grazie a queste indagini si è potuto accertare un altro pezzo di verità. Grazie a tutti.